Questo non sarà l'unico video che io dedicherò a Gianluigi Buffon, ce ne sarà un altro sabato pomeriggio, insomma quando faremo il post partita dirò qualcosina in più su Buffon ma non c'è molto da dire, penso che molto l'abbia detto Andrea Agnelli in conferenza stampa, una conferenza che al momento in cui faccio il video è ancora in corso, perché a me interessava sapere che cosa aveva deciso Buffon anche se già si sapeva ragazzi. Si sapeva che avrebbe lasciato la Juve, si sapeva che al 99% si ritirerà, non sappiamo se si ritirerà o meno però al 99% sarà così, io volevo dirgli solamente una cosa, da Juventino, da sportivo io volevo dirti grazie, grazie perché ogni qualvolta io guardavo le partite della Juventus e guardo le partite della Juve e sapevo che c'era Buffon in porta io ero sicuro al 100% che quel pallone non sarebbe mai entrato. Buffon è un portiere che, voglio dire, io non devo ripetere i numeri di Buffon, ma è un portiere che nella storia del calcio ha raggiunto l'incredibile cifra di 300 clean sheets, cioè 300 volte la porta di Buffon è rimasta inviolata, penso basti questo per capire quanto è grande questo campione che insieme a Del Piero, Nedve, Camoranesi e Treseghe ha deciso di rimanere in Serie B da campione del mondo e ha contribuito a riportare la Juventus dove merita. Io mi auguro che questi che ho nominato tutti e cinque possano entrare in società molto presto perché è una vergogna nel caso in cui ciò non accadesse e mi auguro che Buffon comunque in relazione al suo futuro decida in relazione a ciò che lui pensa, nel senso io voglio dargli da tifoso tutta l'autonomia possibile. Non sarebbe stato un problema nel caso in cui avesse deciso di continuare, però ha preso questa decisione perché evidentemente ha capito alcune cose e tutti noi dobbiamo rispettarla. Rimane la grande consapevolezza di aver perso una leggenda all'interno comunque del club e rimane il rispetto che io ho per quest'uomo prima che per il calciatore. E mi auguro che lui possa essere felice veramente in qualsiasi modo lui desideri, quindi qualsiasi cosa dovesse fare, se dovesse continuare a giocare per un altro club, se volesse fare il dirigente alla FGC o alla Juve, spero che sia felice. Non so, ditemi qualcosa voi. Grazie a tutti.